Vecchio! E vostia madonna, dai eh! Sì! Che con tutte le disavventure di oggi, almeno fare una prova bella bella, cosa dici? Me lo appoggi? Certo! Allora, un bel gira, patato, ok? Chi è? La zia sul cofano che ci dà sempre una mano, anche prima quando abbiamo bucato, giusto? Giusto! E un bel bacio alla mia pata cucciola, anzi 32 baci, 32! E poi viva? La figa! E chi? La spisiga! Aspetta a tirare, andrei 25 secondi e ti ingesso figa! Devo ingessarti dopo! Amami come puoi, amati più che puoi! 15! Non abbiamo ancora provato il lancio! 10! Ma non mi sembra il momento! Viva la figa! E chiacca la spisiga! 5! 4! 3! 2! 1! Fuoco! Via! Piega destra lunghissima! 50! Lieve sinistra là in fondo! Per lieve destra buona credici! 70! In esse! In fondo al palo piega sinistra meno meno credici! Con dietro 50! Albiri se mi torna al tonno sinistro velocissimo! Con dietro l'estra media più gira in corda! In semitornante sinistro velocissimo! Per in fila l'estra media più buona vai! 30! Piega sinistra in fondo albiri! Destra media più tonda! Gira tanto vai! Piega sinistra e destra media più tonda! Gira tanto vai! 80! 80! Faglia vista! E albiri se mi torna al tonno sinistro velocissimo! Vai! Con dietro 70! In al cartello lieve sinistra! Con attenzione quasi subito! In fila destra media più che gira tanto larga! Destra media più che gira tanto larga! 50! In arrela in fila! Sinistra media più veloce buona! Velocissima continua in piega! Media più velocissima continua in piega! Per piega destra giù tutto buona! Qua piega e piega destra giù buona! 70! In fondo al muschio destra media più due tempi su ponte! In fila bene al secondo! In fila bene al secondo con dietro piega a sinistra! La piega fa laggiù tutto! Con in fondo ancora sinistra media più veloce meno buona vai! Media più veloce meno buona vai! 40! Sinistra media più tonda tieni vai! Svelta! Poi via che si apre il 30! E dopo questi 30 infila destra media più vai! Qua! 50! Al vuoto piega a sinistra meno meno vai! Buona tutto tutto 70! E Alpiri sinistra media più veloce in corda ricorda! Svelta e stai a destra! Per inversione sinistra secca! E 150! Vista! Ai cartelli lieve sinistra giù tutto e 50! In ai fiori lieve destra buona! Credici giù tutto 50! In Alpiri tornante destro! In ancora piega sinistra giù tutto! E 130! Allo specchio lieve destra per piega a sinistra buona! Non mollare con dietro 200! Lieve destra piega a sinistra buona! Giù due tento! In piega sinistra e alrae il tornante sinistro! Alrae il tornante sinistro via 100! In fondo questi 100! Piega a sinistra giù tutto con 150 a vista! E poi in fondo stai a sinistra e stacca bene per tornante destro veloce! Con dietro piega a sinistra! E dopo questa piega a sinistra vai 70 giù tutto! E Alpiri se mi tornate sinistro vai vai! Con 50! Piega a destra meno meno giù tutto che è buona! Con attento dietro Sican! E dopo la Sican diventa media più veloce con 30! Viene sinistra nelle case stai attento stretto 30! Alla casa bianca scompone sconnessi in sinistra a destra! E con 20 scende a destra media più e sinistra media più apre! In 40 scende sinistra in fila subito destra media più! Sinistra in fila subito destra media più! In sinistra media più 60! Via! In 60 fa l'Italia lì in mezzo! Alpiri infila bene a destra media più! Per sinistra media più che gira un po'! E 20! Piega a destra buona a 30! Stai a sinistra Ibiri infila destra media più! Stai a sinistra Ibiri infila destra media più! Con dietro sinistra! E dopo la sinistra destra media più svelta! Sinistra destra media più svelta! In ancora sinistra media più gira! In ancora destra media più! E vai! In ancora sinistra media più gira! In ancora destra media più gira! Ed è più gira qua dietro destra! In! Piega a sinistra lunghi due tempi! Attenzione dopo il secondo tempo Albiri destra media veloce buona Con 50 Albiri ancora in fila destra media più che continua in piega Per sinistra media più che gira Dopo la sinistra media più vai ancora piega destra Gira qua sinistra media più piega destra E piega sinistra meno meno lunga In 30 sinistra media più veloce in corda Vai 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 sinistra media più veloce in corda In Albiri infila destra media più Qua Bom!